Ragazzi, buonasera, ci rincontriamo per continuare la nostra indagine sull'Accademia dell'Arcadia. E come vi avevo preannunciato nell'ultima video-lezione, oggi andremo ad analizzare quelle che io ho chiamato qui nel sottotitolo le due anime dell'Arcadia, cioè Gian Vincenzo Gravina e Giovanni Mario Crescimbeni, che noi abbiamo conosciuto già nella scorsa video-lezione perché è uno dei 14 fondatori dell'Accademia, è colui che ha scritto la storia di questa Accademia e abbiamo già visto in quegli estratti che vi ho proposto il funzionamento interno dell'Accademia stessa e i propositi, le finalità, gli scopi che l'Accademia si poneva nei confronti della poesia del passato. La figura di Gian Vincenzo Gravina parte dai medesimi presupposti, però per prendere una strada leggermente diversa da quella del Crescimbeni e vediamo in che senso. Gian Vincenzo Gravina proviene dall'ambiente laico napoletano, è un giurista, quindi la sua professione principale è quella dell'avvocatura, non certo delle lettere, a cui però si interessa profondamente, tanto appunto da spingerlo ad iscriversi all'Accademia dell'Arcadia. E nel 1708 Stila pubblica, in conseguenza, una sorta di... è un trattato poetico sostanzialmente, di cui io vi propongo anche qui un estratto, si chiama Della ragion poetica ed è, come ripeto, un trattato teorico sulla poetica dell'Arcadia e su quello che, secondo appunto Gravina, dovrebbe essere la poesia, la funzione che dovrebbe avere la poesia prodotta all'interno di questa Accademia. Una poesia che, anche qui con me ho sintetizzato, deve essere intesa come uno strumento di azione civile. Perché sostiene questo? Perché rifacendosi, chiaramente, stiamo parlando dell'Arcadia, quindi rifacendosi già ancora a tempi dei greci, lui, esaminando tutta la produzione poetica della letteratura greca, sostiene che fin da Omero la finzione, a cui è legata, chiaramente, la capacità fantastica dell'uomo, quindi la fantasia. Finzione e fantasia producono il testo poetico e quindi la finzione avrebbe lo scopo di alleggerire la comprensione dei concetti universali, questo secondo le sue parole. Ricordiamo che Gravina è cresciuto e si è formato sulla scuola filosofica di Cartesi, di Spinoza, non so se li conoscete, forse Cartesi o sì, non so se è forse anche Spinoza, non so, comunque sono i due massimi esponenti del razionalismo settecentesco e quindi l'indagine che Gravina ripercorre con uno schema argomentativo molto efficace e serrato è proprio su base logico e razionale, no? Per cui questa finzione legata alla fantasia sarebbero gli ingredienti principali di ogni forma poetica con la P maiuscola, perché attraverso la finzione e la fantasia si maschera, dicevo, si mascherano i concetti universali, quei concetti pregnanti che fanno parte del reale, della nostra vita, ma che sarebbero di facile, di difficile, scusate, diciamo così, assimilazione da parte del popolo, del volgo, cioè di tutti coloro che non hanno maturato gli strumenti adeguati per comprendere i concetti, anche da quelli più generali a quelli più profondi, che governano l'esistenza umana, con tutte le problematiche, chiaramente, del reale legate a questi concetti, no? A sapere in generale. Bene, allora la poesia attraverso la fantasia costruisce un mondo fittizio, un mondo fittizio è vero che è frutto della fantasia del poeta, ma è proprio questo mondo fittizio che secondo Gravina deve avere lo scopo di rendere chiari i concetti stessi, che non vengono quindi presentati al popolo, al volgo, attraverso una spiegazione teorica del concetto, ma attraverso delle immagini nitide, concrete e completamente inventate, ma che sono molto vicine al gusto di sentire e all'immaginazione stessa del popolo. Quindi il popolo, riconoscello determinate immagini concrete e non puramente teoriche, che la fantasia del poeta crea nelle sue, come le chiama Gravina, favole poetiche, e lui prende come esempio concreto di tutto questo discorso il mito. Il mito non è altro che una favola poetica inventata in tempi remoti, tramandata oralmente, poi fissata per iscritto, attraverso soprattutto l'opera fantastica di molti poeti che hanno ripreso i miti e li hanno replicati nelle loro opere. Ebbene, proprio attraverso il mito, i greci rendevano semplice la comprensione di un aspetto del reale, di un singolo aspetto del reale, cosa che, se invece fosse stata spiegata soltanto teoricamente come concetto universale pur legato al reale, il volgo non avrebbe potuto comprendere in toto, ma nei casi più fortunati soltanto in parte, perché appunto il popolo non ha sviluppato quegli strumenti logici e conoscitivi soprattutto per disquisire, per approfondire gli aspetti generali della realtà. Quindi, come vedremo appunto nell'estratto che vi propongo, il concetto generale non lo si può presentare in termini teorici. Bisogna innanzitutto vedere quali sono le componenti singole di questi concetti che si vogliono rendere chiari al popolo e per ogni singolo aspetto se ne deve ricavare una storia inventata, una favola poetica che contenga immagini concrete, che la mente del popolo possa quindi ricondurre facilmente alla realtà, oggetti, persone che lo circondano, in modo tale che poi, attraverso questa storia inventata, questa favola poetica, il popolo abbia chiara l'immagine del problema della realtà che si vuole esaminare. Ecco perché quindi la poesia, secondo Gravina, ha una funzione civile. Perché la poesia, attraverso l'immaginazione e la funzione, deve educare il popolo a riconoscere quali sono le problematiche della realtà in cui vive. E questo, secondo Gravina, lo può fare soltanto il poeta e quindi la poesia. Questo concetto viene espresso piuttosto chiaramente appunto in questo estratto che è tratto dal primo libro della ragione poetica, opera che si divise infatti in due libri. Nel primo si parla appunto della funzione poetica in generale, andando poi a ricondurre questa funzione già nella letteratura greca e poi quella romana. E il secondo libro invece che tratta in maniera più specifica la poesia in italiano, in volgare da prima e poi in lingua italiana. Nel capitolo 7 di questo primo libro noi leggiamo. Ma per ridurci al nostro principio, cioè per ritornare praticamente alla parte principale, più importante del discorso che stavamo facendo prima, è la poesia una maga, ma salutare, ed un delirio che sgombra le pazzie. Così come Cartesio, anche lui inizia la sua dissertazione, la sua argomentazione per procedimenti logico-razionali e anche per paradossi. La poesia è una maga, ma nello stesso tempo è una maga benefica, è una maga salutare. Perché è una maga? Perché la poesia è miracolosa. La poesia, attraverso l'astrazione dal vero, immedesima il lettore in una situazione fantastica, in una situazione inventata. E già questo è una magia, è un miracolo. La capacità che la poesia ha di astrarre il lettore, portarlo fuori dal vero, per immergerlo in una realtà che apparentemente col vero non ha nulla a che vedere. Però questa sorta di magia, questa sorta di miracolo, è salutare per i motivi che vi dicevo prima. Perché proprio attraverso le strutture elaborate dalla fantasia che l'uomo comune ha la capacità e i mezzi per indagare la realtà che lo circonda. E quindi è per questo che è salutare. E nello stesso tempo, vedete i paradossi, è un delirio. Perché? È uno delirio nel senso che è uno stato alterato dell'animo. Lo stato alterato dell'animo dovuto alla fantasia con cui il poeta altera la realtà. Però sgombra le pazzie. Questo stato alterato dell'animo che dovrebbe, a logica, condurre in direzione della pazia, invece no. Sgombra il terreno dalle pazzie. Perché? Perché proprio, ritorniamo sempre a dire la stessa cosa, è proprio attraverso questo stato alterato dell'animo alterato dalla fantasia che noi possiamo vedere poi la realtà per quello che è. E come vi anticipavo, lui ci pone un esempio. È ben noto quel che gli antichi favoleggiarono Danfione e Dorfeo dei quali si legge che l'uno col suon della lira trasse le pietre e l'altro le bestie. Forse, io spero, anzi, sicuramente voi avete già sentito parlare di Orfeo, famoso cantore che era talmente abile nel suo canto e nel suo strumento, appunto la lira, che era capace di muovere la vegetazione, gli animali. E così anche Anfione, tale e quale Orfeo, però era capace di muovere le pietre, addirittura, tanto che il mito vuole che Anfione, re di Tebe, avesse costruito le mura della sua città proprio trasportando enormi massi di pietre semplicemente attraverso il suono della sua lira. Bene, queste sono le storie, queste sono le favole poetiche, questi sono i miti, ma che cos'è che si nasconde dietro queste immagini, qual è la funzione per esempio di questi due miti, dalle quali favole, ecco, da queste favole poetiche si desume, si raccoglie che i sommi poeti, in questo caso rappresentati da Anfione e da Orfeo con la dolcezza dell'ora del canto poterono piegare il rozzogenio degli uomini e ridurli alla vita civile. Quelle che erano le pietre per Anfione o gli animali vegetali per Orfeo che sono stati mossi, guidati ad un fine preciso dal suono della lira dei due poeti, quindi dalla loro poesia, non vuole altro che rappresentare appunto gli uomini che sono stati smossi dal canto appunto dei poeti e ricondotti nella strada del vero. Ma questi sonrami e non radici, cioè queste storie, queste favole poetiche non sono le radici vere e proprie della realtà ma sono le sue diramazioni appunto alterate e fa dopo cavar più a fondo per rivenirle ed aprire per entro le antiche favole un occulto sentiero onde si possa conoscere il frutto di tali incantesimi e il fine al quale furono indirizzati. Cosa ci sta dicendo Gravina? Che se noi dovessimo rimanere soltanto all'apparenza della storia appunto ai rami noi non avremmo veramente il messaggio che queste favole poetiche ci vogliono lasciare se il popolo appunto fosse rimasto inebriato soltanto dalla storia del mito di tutti i miti di tutte le poesie che furono cantate anche nel passato ecco questi testi non avrebbero sortito l'effetto voluto perché bisogna scavare a fondo in queste storie in queste favole per trarne le vere e proprie radici cioè che significa per trarne il vero significato che i miti nascondono ora noi ci siamo conosciuti quest'anno e di miti so sì qualcosa abbiamo visto ma ben poco ma io fin dalla prima compio una sorta di lavaggio del cervello tra virgolette ai ragazzi perché ogni mito che si incontra soprattutto se ho come disciplina storia ma anche l'epica ecco io proprio voglio inculcare la mente dei ragazzi che il mito nasconde sempre una realtà effettiva è che noi dobbiamo esercitarci in questo senso a vedere quale realtà si nasconde dietro un determinato mito questo mito è stato elaborato per quale motivo per dimostrare che cosa non quello che racconta il mito effettivamente ma una realtà ben precisa che per renderla universale a tutto il popolo anche a quello che non ha gli strumenti adeguati per conoscere per studiare ecco a questo serve il mito quindi bisogna scavare per andare a scovare il vero significato dell'elaborazione fantastica che il mito ci pone davanti ed è quello che appunto ha sostenuto lui finora no nelle menti volgari che sono quasi d'ogni parte involte tra le caligini cioè le nebbie della fantasia è chiusa l'entrata agli eccitamenti del vero e delle cognizioni universali la mente del popolo la mente volgare del vulgo cioè del popolo è una mente abituata alla nebbia della fantasia perché la fantasia è una nebbia perché la fantasia è come se avvolgesse la verità la realtà con questa sua patina nebulosa no nascondendo effettivamente qual è l'immagine esatta del reale ecco e allora per queste menti è chiusa l'entrata agli eccitamenti del vero cioè la verità effettiva che pure loro hanno davanti agli occhi è preclusa e come è preclusa la strada per le cognizioni universali cioè la strada del sapere del sapere oggettivo perché dunque possano ivi penetrare conviene disporle in sembianza proporzionata alle facoltà dell'immaginazione ed in figura atta capire adeguatamente in quei vasi ora affinché quindi possano penetrare i veri significati le radici no? si riferisce sempre alle radici cioè i veri significati del reale che queste favole appunto vogliono significare conviene disporli in sembianza proporzionata alla facoltà dell'immaginazione cioè bisogna creare quindi delle favole delle storie che abbiano degli elementi adeguati alla capacità fantastica del volgo quindi il volgo si deve ritrovare in quelle storie che vengono inventate dal poeta ed in figura atta capire adeguatamente in quei vasi cioè bisogna quindi strutturare queste favole poetiche questi componimenti poetici in maniera tale che possano quindi andare direttamente in quei vasi chi sono i vasi sono elementi del popolo che quindi accoglieranno molto facilmente tutte quelle immagini che sono state elaborate dalla fantasia del poeta ma che sono state però elaborate tenendo conto del livello di elaborazione fantastica del popolo quindi non posso inventare delle storie astruse in cui il popolo non si saprebbe riconoscere non si saprebbe vedere devo inventare dei testi poetici tali che contengano elementi che seppur fantastici però sono facilmente diciamo così riconosciuti dal popolo perché il popolo è abituato a fantasticare e io quindi devo comporre dei testi adeguati a questa capacità di fantasticare perché solo così io posso sollecitare il popolo a riflettere su un determinato problema che si cela dietro questo travestimento della fantasia e infatti cosa dice il gravina bisogna vestirle di abito materiale e convertirle in aspetto sensibile disciogliendo la sua universale nei suoi individui in modo che in essi come fonte per i suoi rivi si diffonda e per entro di loro si asconda come nel corpo lo spirito allora che bisogna fare notate che insomma è proprio il metodo argomentativo razionale logico che segue gravina è anche espresso in una forma piuttosto diciamo alta uno stile alto non voglio dire ampolloso perché non lo è però sta esprimendo praticamente un concetto filosofico razionale e lo sta esprimendo non al popolo non scrive della ragione poetica per il popolo lo scrive chiaramente per i letterati e soprattutto per i letterati dell'arcadia quindi bisogna vestire le immagini di abito materiale ossia non posso essere astratto devo prendere spunto dalla realtà che circonda il popolo Anfione smuove i massi le pietre e ci costruisce una cinta muraria attraverso il suono mimor flauto ma in realtà è la lira attraverso il suono della sua lira massi mura della città tebe la lira il suono sono tutte immagini concrete che appunto a cui il popolo è abituato e quindi la mente del popolo capta e riconosce e quindi assimila direttamente queste immagini ecco che cosa significa che bisogna vestirle di abito materiale convertirle in aspetto sensibile quindi non astratto ma in qualcosa che i sensi dell'uomo possano percepire direttamente e quindi bisogna di sciogliere l'assieme universale cioè bisogna prendere la legge il concetto del sapere che si vuole dimostrare bisogna appunto di scioglierlo nei suoi individui cioè distinguerlo nelle singole parti che compongono questo concetto che si vuole dimostrare in modo che in queste singole parti che io appunto travesto con la mia fantasia come fa appunto un una sorgente attraverso i rivi che nascono da questa sorgente si diffonda e si nasconda penetri dentro le menti del volgo le menti del popolo così come lo spirito è penetrato e quindi risiede nel corpo non vi lasciate spaventare ripeto dall'ampollosismo il concetto in realtà è molto semplice è come se ve l'avessi spiegato già dieci volte io devo fare riferimento alla realtà concreta e non a realtà astratte per dimostrare un concetto per dimostrare una determinata problematica della realtà al popolo perché il popolo non è abituato a speculare a ragionare a filosofare il popolo vive in una realtà contingente il popolo vive in una realtà concreta fatta di immagini di cose di oggetti ebbene io poeta devo avere il compito di istruire questo popolo e portarlo a conoscere il vero ma non attraverso pura teoria ma attraverso la poesia che secondo Gravina e secondo anche gli antichi è l'unico mezzo che l'uomo ha che l'artista ha a disposizione per spiegare i concetti universali che compongono la vita dell'uomo il popolo riconosce gli elementi che il poeta usa nelle sue poesie e quindi questi elementi lo porteranno a scoprire il concetto universale in una maniera molto più semplice di un qualsiasi insegnamento teorico di quello stesso concetto quando le contemplazioni avranno assunto sembianza corporea quindi quando gli elementi della mia poesia saranno oggetti che appunto fanno parte della nostra vita allora troveranno l'entrata nelle menti volgari perché le menti volgari sanno riconoscerli potendo incamminarsi per le vie segnate delle cose sensibili cioè delle cose concrete ed in tal modo le scienze basceranno dei frutti loro anche i più rozzi cervelli quindi la poesia ha questo scopo un scopo puramente didascalico cioè educativo civile crescimbeni prelato beh l'immagine ce lo dimostra facendo parte della curia romana quindi già un contesto diverso da quello del gravine imbevuto di cultura classica molto più del gravine grazie anche agli studi compiuti no per ottenere il sacerdozio vive in un ambiente tipicamente romano quindi molto più al di dentro di dibattiti aspetti culturali in genere è uno dei fondatori appunto dell'Accademia dell'Arcadia e vi dicevo ma forse come si è potuto anche osservare da quello che abbiamo letto di lui nella lezione precedente si muove su una linea diversa pur partendo praticamente dallo stesso fronte e cioè il fronte del rinnovamento che la poesia così come era stata concepita soprattutto nel secolo precedente non va però disconosce totalmente la funzione civile del gravine praticamente per il crescimbeni la poesia è un puro esercizio formale un puro esercizio stilistico e quindi la poesia non è c'è un abisso da questo punto di vista che divide il gravine alla crescimbeni proprio perché la poesia secondo lui è un puro esercizio formale stilistico per raggiungere quel livello di purezza di cantabilità di semplicità appunto che la poesia aveva avuto fino a rinascimento e che poi il barocco aveva completamente travisato è chiaro che un discorso del genere non è rivolto al popolo la funzione non la poesia non ha una funzione educatrice non ha una funzione civile ma è semplicemente un banco di prova per i letterati quindi la poesia col crescimbeni diventa acquisisce un'immagine molto più specialistica molto più appunto raffinata e diciamo che tra le due linee di pensiero nell'arcadia è destinata a prevalere questa seconda dove praticamente grazie alla quale diciamo gli intellettuali si muovono soltanto in direzione della purezza dello stile il guaio che appunto provocò questa tendenza puramente formale e stilistica è che col passare del tempo anche quei contenuti che potevano all'inizio essere affascinanti contenuti ripeto bucolici pastorali il rimembrare situazioni descrittive narrative che ci riportavano appunto al bel passato arcadico greco e poi romano alla fine diventeranno sempre più sterili saranno produzioni che contenutisticamente risulteranno ripetitive monotone e che quindi non avranno in sé nulla di genuino come i primi componimenti in questo senso perché appunto il far poesia si trasformerà in un puro esercizio stilistico e quindi circoscritto soltanto agli addetti ai lavori la fruizione del testo poetico escluderà con l'Arcadia a causa delle teorie del crescimbeni la maggior parte una larga fetta di un eventuale pubblico che invece avrebbe potuto avere mi fermo qui e ci rivedremo prossimamente mercoledì in diretta riparleremo di questi argomenti o di altri magari di cui avete necessità e proseguiremo la nostra indagine entrando nel nel vivo non so ancora indeciso se proporvi anche la canzonetta del rolli forse si vedremo appunto allora un componimento due componimenti uno di del rolli poi vi spiegherò chi ha comunque una personalità di spicco tra i vari arcadi chiamiamoli così e poi appunto pietro metastasio ci rivediamo presto intanto come al solito vi auguro buono studio e anche buon riposo perché ci vuole pure quello arrivederci ragazzi a che a che a a